faccio un piccolo video della vasca espositiva del negozio è una vasca che ha solamente tre mesi di vita cioè c'è ancora tanto da lavorare è solo che in tanti hanno chiesto questo video e ovviamente li accontentiamo a breve faccio un altro video che spieghiamo come tecnica di cosa abbiamo montato qua sopra questo tipo di vasca che dico soltanto che come lampada c'è una di strato poi a breve faremo un altro video e vi spiegheremo come steamer pompe e tanto altro un abbraccio a tutti